Oh 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 Attenzione Ciao Jumpers, bentornati sul canale Eccoci qua per la seconda parte del video Quindi la seconda challenge Dove Salvo e Ricky si sfideranno In una gara di trazioni Con lo spin Quindi chi riuscirà a fare più trazioni Con la palla che gira sul dito Vincerà la sfida Andiamo alla struttura Ah comunque ragazzi Io avendo problemi alle mie spalle Non posso fare le trazioni Però in comprenso proverò a fare la stessa cosa Facendo i piegamenti E ovviamente sfiderò anche Salvo e Ricky Scassissimo Sfortunatissimo Ok ragazzi siamo qui alle sbarre Si inizia a trazionare Pallone Vediamo cosa riusciamo a combinare Contate insieme Uno Due Si fatta Fatta la buttare in faccia Allora il primo round l'ho vinto io Ok Sei pronto per il secondo? Prontissimo Va bene poi Nooo Let's go Uno Due Tre Qui ragazzi vedo un pareggio Quindi bisogna fare la prova del nove Vai Uno Brenda Due Brenda Tre Brenda Quattro Brenda Quattro Uno Due Ho vinto la sfida contro Ricky Mascolap Non ce l'ho più Infatti mi aspettavo il mascolap Ok la situazione com'è? Eh che ha vinto Salvo Adesso cosa succederà? Adesso facciamo i piegamenti invece dove posso partecipare anche io Ma pieghiamo in mezzo Let's go Let's go Easy Ma c'è la mano tipo ruggera Cinque dai Ci hanno fatti due strisciando Non si sa come Uno Due Tre Quattro Ah tre Vai mister John Facci vedere Uno Due Tre Quattro Oh Infatti Ve l'avevo detto Si sistema il pacco Il pacco importante Oh Attenzione Nel mese di ottobre Sky One non sente freddo in quanto siciliano potente Conto conto Vai vai Uno Due Tre 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 Hai freddo? No Fa caldo Fa caldissimo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Urca Attenzione Marco controlla da dietro Uno Due Due Tre Quattro Cinque Allora mister jump E ho perso Conta uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette 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 Cos'è che ha appena detto Salvo Ricky? Allora Ricky ha aperto il libro delle scuse e ha detto che vuole il suo pallone Prego Uno Due Tre Quattro Cinque E anche per questo video è tutto Ho vinto io al prossimo video Dove sei Marco? Mi sto allenando Come sei? Qui Marine Uno Section , qui Isto Quattro Quattro Moto Quattro R Co You